E' rimasto in carcere due settimane su ordinanza del giudice che aveva valutato le indagini dei carabinieri riguardo alle due aggressioni subite da una giovane donna di Santa Catamilitello da parte dell'ex marito. Due aggressioni avvenute in luoghi pubblici dopo la separazione. L'ultima, successa a gennaio, aveva ridotto la donna in queste condizioni e proprio per evitare rischi per la giovane i giudici avevano chiesto l'arresto in carcere. La scarcerazione, per quanto legittima sotto un profilo tecnico, visto che l'uomo è andato ai domiciliari, lascia perplesso l'avvocato della donna per alcune modalità. Il giudice, dopo avere comunque applicato la misura di massimo rigore che erano gli arresti in carcere, ha rappresentato la sussistenza di elementi che sarebbero costituiti dal pentimento durante l'interrogatorio piuttosto che dal decorso di 15 giorni, elementi che vengono inspiegabilmente ritenuti rilevanti ai fini di un'attenuazione delle esigenze cautelarie. L'altro aspetto che ha sommesso avviso e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo ritengo sia stato gestito con scarsa attenzione rispetto alla problematica grave che secondo lo stesso giudice ha riguardato una persona ammessa, circostanze tutte ammesse anche dall'imputato, è rappresentata dall'esecuzione di quest'ordinanza perché questo signore che fino a 15 giorni prima è stato ritenuto in qualche maniera controllabile esclusivamente per il tramite della misura di massimo rigore è stato rimesso in libertà senza che nemmeno le forze dell'ordine competenti per territorio fossero state informate della necessità di sottoporlo alla misura degli arresti domiciliari. Quindi le dice che poteva andare ovunque una volta uscito dal carcere? Precisamente poteva andare financo sotto casa della mia assistita. Maria Elena Guglielmotta, la moglie che ha subito le aggressioni, ha deciso di rendere pubblica la sua vicenda proprio per far comprendere come storie di questo genere, che purtroppo in Italia si contano a centinaia, sconvolgano le esistenze di chi le subisce. Ha che denuncia dal 2015, fatti di maltrattamenti e via discorrendo, fino al culmine della sera del 13 di gennaio dove sappiamo quello che è successo. Quindi 25 giorni di prognosi a Sant'Aga, dati altri 30 di prognosi a Milazzo, sono ben 55 giorni di prognosi con un intervento chirurgico, ovviamente, sulle mie spalle e anche ovviamente un fatto psicologico perché io vivo ancora oggi nel terrore di tutto questo. Dopo tutto quello che è successo rifaresti le denunce? Sì, assolutissimamente sì, perché si devono denunciare e dobbiamo dare forza a tutte queste donne che subiscono dei sopprusi all'interno della casa e magari per terrore o ripercussioni da parte dei familiari o della gente che magari possa giudicare non denunciano, dovete denunciare.